Non può fare a meno di mandarti più di 100 sms al giorno. 3.000 in un mese, la metà gratis. E lui ne mandava anche di più. Non va a dare spese, mio tesoro. Buongiorno, Zuccherini. Sai che è il mio cuore. Baci, baci, ancora baci. Mi stai pensando? Le amiche me lo invidiano, il mio nuovo fidanzato. Sempre attento, premuroso, non si perdeva una parola. Voleva sapere tutto di me, dei miei amici, della famiglia, del lavoro, i cugini, i colleghi. Faceva regali, orsetti, gattini, piantine, ciondoli. E non sapevo neanche più dove metterli. Si ricordava compleanni, onomastici, anniversari. Mi accompagnava ovunque, sempre e comunque. Poi ho cominciato a staccare il telefono per qualche ora.